Il film è composto da due parti. Prima parte, informazioni di base sull'animale. Parte seconda, i suoni dell'animale. Potete utilizzare i rumori in qualsiasi modo, dove volete, come volete. Completamente gratuito. Il ratto è un mammifero appartenente alla famiglia dei muride. Noto per la sua grande capacità di adattamento e sopravvivenza in ambienti diversi. Questi roditori sono tra gli animali più diffusi e riconoscibili al mondo, spesso associati a zone abitate dall'uomo, dove trovano cibo e rifugio. I ratti hanno una lunghezza corporea che varia da 19 a 30 cm, con un peso che oscilla tra i 240 e i 550 grammi. La loro aspettativa di vita media è di circa 4 anni. Sebbene questo possa variare notevolmente in base alle condizioni ambientali e alla presenza di predatori. Presentano un manto che può variare dal grigio al marrone scuro, con la parte inferiore del corpo solitamente più chiara. I ratti sono onnivori con una dieta estremamente varia che include cereali, frutta, padlina e praticamente qualsiasi tipo di rifiuto alimentare. Questa flessibilità nel regime alimentare li aiuta a sopravvivere in molti ambienti diversi. Sono preda di numerosi predatori, tra cui gatti, serpenti, uccelli rapaci e, in alcune aree, specifici mammiferi predatori. La loro presenza in grandi numeri li rende una fonte di cibo importante per questi animali. I ratti sono estremamente versatili nell'occupare vari habitat, ma sono più comunemente trovati in prossimità delle aree urbane, dove l'accesso al cibo è più facile. Sono frequenti abitanti di discariche, cantine, fogne e altri ambienti costruiti dall'uomo, nonché aree agricole dove possono causare significativi danni ai raccolti. La loro capacità di adattarsi e riprodursi rapidamente li ha resi uno dei mammiferi più diffusi e resilienti sul pianeta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti